Dimenticare Catanzaro sembra il titolo di un film ma è quello che vuol fare il Perugia e il film comincia un po' lento anche se sono i biancorossi a prendere campo ma senza fretta e senza cattiveria fino al ventunesimo però quando la catena di sinistra del Perugia lavora fitto e riesce a lanciare Fabigno. Cambio di fronte come vuole Camplone e dall'altra parte arriva Moscati che infila in una foresta di gambe giusto così per quanto sia visto finora. Trentaduesimo fuga di Fabigno sulla prateria di destra ma l'azione produce solo un angolo sugli sviluppi del quale Massoni per poco non raddoppia. Poi il presunto colpo di scena prima Fioretti impegna Coprivec dal limite e poi l'arbitro Aletino Pelagatti caccia via Cangi per qualcosa che solo il suo primo collaboratore ha visto. Perugia in dieci. Trilling puro. Tutti aspettano il Catanzaro ed il Perugia fa due. Azione corale come sempre succede e Fabigno alla conclusione. Gelo sul Ceravolo. Il Perugia si abbassa con Moscati Tersino e il Catanzaro cresce. Un paio di brivili per il grifo con Fioretti al 44 e al 47. Poi si riaccende la luce in sala e fine del primo tempo. Si ricomincia ma il Perugia non si copre. Moscati a destra fa il Tersino e la Mezzala. La testa del Perugia rimane la stessa anche in dieci e dopo tre minuti la catena Liviero Fabigno fa tre. Col brasiliano che è veloce come una scheggia raccoglie l'invito del Tersino e va ad incrociare nell'angolino prima di correre sotto i tifosi. Altri cinque minuti e Nicco sul centro-sinistra raccoglie da Fabigno e fa il Del Piero. Cineteca pura e sono quattro. Ora si tratta solo di gestire la deconcentrazione che qualche problema il Perugia in passato lo ha creato. Nonostante il catanzarese Rolando dica due paroline di troppo alla signorina Abruzzese, seconda assistente dell'arbitro. Secondo giallo e dieci contro dieci. Ma non basta perché il Perugia si addormenta e il catanzaro reagisce. Al ventitreesimo segna. Percussione da sinistra di Chiore, Coprivecciapara di prima intenzione ma Carboni rivadisce in rete. E al trentatreesimo Massini in fuorigioco segue l'azione da destra e fa due. Il gol non è buono ma la segnalazione dell'assistente viene ignorata per l'inserimento di Russotto e si va sul 4-2. Entrano Rantier e Tozzi per Politano e Ciofani ma italiano no, vai a capire. Ma sono solo i titoli di coda perché il film finisce col Perugia a festeggiare sotto la sua gente. Per sapere se sarà nomination all'Oscar però bisogna aspettare ancora. Avellino Nocerina.